buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 5 giugno 2024 ci stiamo inoltrando nell'ultima settimana di campagna elettorale ovviamente questa è la settimana più intensa di appelli da parte di tutte le componenti che si sfidano per questa campagna che ormai si trascina da tanto tanto tempo sono diversi mesi che i vari componenti i vari elementi si confrontano l'un l'altro per aspirare alla prossima tornata amministrativa e noi riferiremo come sempre cercando di essere equilibrati tra le forze dell'una e dell'altra parte allora cominciamo come sempre con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccolo il santo di oggi è san bonifacio ebbene bonifacio il termine il significato del nome è certamente molto molto chiaro molto palese bonifacio faccio bene ebbene è un santo che fece molto molto bene in realtà il suo nome era vifrit ed era un santo inglese nacque a crediton nel 680 crediton in inghilterra nel 680 e si chiamava vifrit e poi assunse il nome di bonifacio quando si fece sacerdote e in questa veste si distinse per la sua santità per le sue doti di santità predicò il vangelo con grande trasporto specie in germania fu nominato vescovo da papa gregorio secondo e arcivescovo da papa gregorio terzo morì ucciso da una banda di idolatri mentre si spostava da una parte all'altra del paese per la sua opera di evangelizzazione e fu un martire della chiesa cattolica appunto nell'alto medioevo e quindi quindi passiamo ci ho detto passiamo alle previsioni del tempo oggi abbiamo tempo buono su tutte le marche il tempo stabile in gran parte solleggiato con piccoli addensamenti diurni nelle aree interne senza però particolari effetti le massime raggiungeranno i 24 gradi le minimi si sono attestate sui 18 i 20 sulle coste espireranno con una tensione debole da est sud est nell'interno invece da ovest sud ovest il mare è leggermente mosso il sole sorto alle 5 26 e tramonterà alle 20 e 45 queste le previsioni del tempo una giornata tutta da godere per quanto riguarda questi tempori estivi che non sono al momento né troppo freschi né troppo caldi e quindi è una temperatura ideale e allora vediamo i giornali apriamo oggi il corriere adriatico e vediamo l'articolo di apertura dedicata all'esippo sì all'esippo perché ieri grazie ad un'iniziativa di bene comune le ultime fasi di questa vicenda giudiziaria che si è trascinata ormai dagli anni 60 da quando il tribunale di gubbio pronunciò la prima sentenza nei confronti di questa situazione del mercato illegale delle opere d'arti senza però giungere ad una definitiva soluzione ebbene questa vicenda si è trascinata fino al giorno d'oggi e ieri in questo incontro era presente la magistrata silvia cecchi che ha dedicato gran parte del suo lavoro alla soluzione e alle indagini per riavere il lisippo in italia il lisippo ovviamente è la statua bronzea dell'atleta che si incorona attribuita al grande scultore di alessandro magno che operò in epoca ellenistica lisippo tre mesi con il fiato sospeso il tempo che resta al ghetti museum di proporre un ricorso alla sentenza dell'alta corte di giustizia europea che ha pronunciato una sentenza avversa al ghetti convalidando la sentenza emessa dal tribunale di pesaro ovvero l'ordinanza che impone al ghetti di restituire la statua perché è stata acquistata in maniera illegale il magistrato cecchi si dice convinto che il ricorso in europa non sarà accettato perché poi questo ricorso deve passare al vaglio di una speciale commissione e secondo la cecchi non esistono i presupposti perché il ghetti possa proporre ancora un appello certo è che se la situazione si fermerà qui ora o si fermerà tra tre mesi poi la palla passa alle corti e alle corti giudiziarie californiane perché poi lì queste devono recepire quello che ha detto la corte europea e allora lì entra in gioco anche il ruolo diplomatico il ruolo politico dell'america per cercare di convalidare quanto ha deciso quanto hanno deciso i giudici europei e beh una questione piuttosto complicata vediamo anche come il resto delle carlino e affronta questa notizia che ha in più un documentario che è stato realizzato da alcuni cini operatori pesaresi per quanto riguarda la ricostruzione di tutta la vicenda dell'elisipo e sembra che in questo documentario venga anche menzionato il luogo dove l'elisipo è stato pescato la barca dell'elisipo sappiamo dov'è perché è una barca che potrebbe contenere ancora molti altri reperti che erano in fuga da roma dovevano essere trasportati verso bisanzio siamo alla fine dell'impero romano e la capitale dell'impero veniva trasferita appunto da roma a bisanzio i registi furiassi e agostini autori del docufilm in lavorazione raccontano vogliamo recuperare il relito entro l'estate non è impossibile beh è un'impresa a cui facciamo noi tanti tanti auguri vediamo le altre notizie si parla di politica si parla di elezioni nella a fondo pagina del corriere adriatico si parla di una piattaforma di 30 punti che è stata presentata ai tre candidati sindaco del comune di fano da parte del comitato del centro storico il comitato ha organizzato più incontri con i politici con gli amministratori di fano per cercare di preservare quella vivibilità che il centro storico pur essendo un centro di attrazione per tutta la città dovrebbe mantenere appunto ebbene questo protocollo possiamo definirlo così piattaforma più esattamente si articola in 30 punti ne vediamo alcuni secondo il comitato i sindaci dovrebbero colui che che vincerà le elezioni dovrebbe istituire un tavolo di concertazione tra amministrazione residenti che sia stabile che sia permanente e poi questi rivendicano soprattutto il diritto alla quiete pubblica e poi occorre un nuovo regolamento per le emissioni acustiche che tuteli insomma anche la residenza oltre che l'operatività la commercializzazione non manca il riferimento all'ordine pubblico fondato sull'esigenza di assicurare di più la sicurezza ai cittadini e poi c'è il problema della viabilità ebbene i residenti del centro storico rivendicano un permesso all'interno della ZTL per tutta l'area interna alle mura senza essere limitati a zona per zona come attualmente e poi un adeguato numero di parcheggi gratuiti riservati ai residenti prevedendo compensazioni in caso di nuovi interventi di pedonalizzazione come anche per la vicenda di piazza Marcolini e lì ovviamente si è eliminati sono eliminati dei parcheggi e i residenti vogliono che vengano ripristinati magari da un'altra parte. Infine chiedono abbonamenti a prezzi scontati per gli stalli a pagamento. E qui abbiamo invece l'intera pagina, siamo ormai alla terza piena pagina che viene dedicata ai candidati sindaco di Fano. Faremo un palasport da almeno 3.000 posti e uno dei maggiori impegni assunti dal candidato sindaco del centro-sinistra Cristian Fanesi. Idee per la città di domani. Candidato sindaco del centro-sinistra dice la sua più grande soddisfazione è il nuovo piano regolatore tagliati 114 ettari di terreni edificabili. ebbene la protezione del suolo, il no al consumo del suolo è stata appunto osservata dal nuovo piano regolatore di sviluppo della città. Invece un riconoscimento doveroso ma prestigioso anche è stato dato alla Stroke Unit di Fano. Quel sistema di cura e di prestazioni subito di pronto soccorso a coloro che hanno ricevuto un ictus. Ebbene in questo caso la tempestività dell'intervento è essenziale per riavere, per salvare innanzitutto la vita e poi per riuscire a mantenere un grado di autonomia sufficiente appunto ad andare avanti. Il premio internazionale Diamond alla Stroke Unique dell'ospedale di Fano. Ebbene è stata con grande soddisfazione il direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale numero 1 Carelli dice che il riconoscimento dimostra quanto il reparto sia un'assoluta garanzia per i pazienti. Il centro, ha aggiunto Samuele Bedetta che è il direttore del reparto di medicina interna, ha fatto registrare oltre l'80% dei pazienti trattati in meno di 60 minuti dall'arrivo in pronto soccorso ed il 66% in meno di 45 minuti considerando che ogni 15 minuti di ritardo si aumenta del 4% il rischio di emorragia cerebrale. Quindi vedete come la tempestività di raggiungere questo impianto, questo reparto essenziale per la salvezza della vita umana è una cosa imprescindibile. Quindi bisogna anche questo aumentare in mezzi di soccorso perché anche in questa campagna elettorale si è ribadito che una sola ambulanza in servizio a 24 ore non basta, ce ne vuole di più di una. Allora restiamo a Fano per vedere anche un altro successo, quello ottenuto dall'associazione Vivere il Poderino, che ha organizzato un grande concerto. Sembrerebbe una cosa normale, ormai i concerti si organizzano da tutte le parti, in realtà questo è un concerto particolare. Un concerto particolare perché è stato realizzato in un parco, quello di Via Piemonte e Via Marche, che è stato in passato oggetto di vandalismi e di situazioni di trasgressione da parte di gruppi di giovinasti. Ebbene, più che rivendicare sistemi di oppressione, sistemi di punizione nei confronti di questi ragazzi, il comitato, l'associazione ha deciso invece di coinvolgerli, di coinvolgerli ed organizzare un grande concerto che si è svolto il 2 giugno scorso, anzi diciamo il primo giugno scorso, in questo parco con grande partecipazione di folla, dalle 17 alle 23 si sono esibiti tanti tanti gruppi, tanti cantanti, tanti ragazzi che coinvolti con la cittadinanza, così è stato come un atto di riconciliazione tra i residenti che rivendicavano schiamazzi, problemi, via dicendo, ora invece la situazione è tornata assai tranquilla. Un concerto per fare pace, basta vandalismi nel parco, vivere poderino in Via Piemonte, grazie alla musica tornate famiglie e giovani. Insomma, si è riappacificato il quartiere. A Fossombrone c'è la minoranza che accusa la maggioranza di aver presentato il bilancio in ritardo che è con un avanzo spropositato di oltre 2 milioni di euro. Le critiche al bilancio comunale sono state portate dal portavoce Cristiano Cohen, il portavoce appunto della minoranza, che ha definito lo stesso dato del bilancio scandaloso. Questa è un po' l'impressione appunto della opposizione. A Serra a Santabondo, dopo l'alluvione, è stato ripristinato il ponte Carrabile a Serra. Il cantiere è in dirittura d'arrivo. Il commissario Babini fa il punto sui lavori di ripristino dopo l'alluvione del 2022. Un'opera che ormai dovrebbe essere giunta a conclusione. Mancano infatti pochissimi giorni per fare la soletta rampe e consegna del cantiere, a cui seguirà in breve anche quello di Serra dei Conti in provincia di Ancona. A Senigallia si ripristina la vigilanza armata in spiaggia dal 14 giugno e intanto cambiano gli orari. Scatterà alle 22. Il prossimo weekend ci saranno più controlli per il raduno dei bikers. In vigore poi l'ordinanza anti-alcol, un'ordinanza che si è resa necessaria per contemperare le intemperanze che potrebbero sorgere dal raduno europeo delle Early Davidson. Un raduno che porterà a Senigallia tantissime persone e che costituirà uno dei più seguiti, più affollati eventi della stagione estiva. C'è l'assalto delle Harley, rivoluzione viabilità. Appunto il raduno comporta anche alcune variazioni della viabilità. Da domani a domenica le modifiche e i divieti soprattutto nel centro storico e nella zona mare. Sulla pagina di Pesaro l'apertura è dedicata invece alla strada del mare, ovvero quella strada che da Fiorenzuola di Focara porta alla spiaggetta di Focara, insomma dall'alto del colle scende giù verso la spiaggia. Si tratta della perla del San Bartolo, meta incessante di bagnanti che affrontano salite, discese, tornanti pur di godersi di uno dei più bei angoli di questo paradiso ambientale che presenta appunto il San Bartolo. Ebbene qui tutto quanto è stato ripulito, quindi sono state effettuate operazioni di look e di pulizia in modo che questa passeggiata sia la più bella possibile. La strada del mare, così si chiama, ha intercettato i fondi del Climate Change del Ministero della Transizione Ecologica. 400 mila euro appunto che sono serviti per ripulire il tutto. E qui vediamo un incidente stradale che ha avuto anche un seguito di carattere giudiziario. Travolge uno scoterista e scappa. È stato rintracciato grazie al Targa System, ovvero a quell'impianto di sorveglianza che vigila sulle strade e individua anche i mezzi che non hanno assicurazione, che non hanno la revisione oppure le responsabilità di incidenti stradali. L'incidente in questo caso è accaduto ieri mattina a Muraglia. Il conducente è stato denunciato per omissione di soccorso. Con la sua auto ha investito uno scooter che era condotto da una donna, la quale è stata poi ricoverata al San Salvatore. Per fortuna non sembra che sia in pericolo di vita, ma grazie al Targa System disseminato in città che sono in grado di identificare appunto queste auto, l'uomo è stato rintracciato ed è stato denunciato per omissione di soccorso. Vediamo ancora altri titoli che riguardano Pesaro. Si parla dell'ecomuseo lungo l'ardizio. Valorizzerà la storia del colle, non solo in San Bartolo a Pesaro, ma anche l'altro colle che delimita la città verso sud. L'idea è di Patrizia Bucci di 30 anni che opera nel settore turistico rilanciata da AWS. Riaccendere i riflettori sul colle Ardizio è un modo per valorizzarne le eccellenze e metterle in rete. Anche il colle Ardizio ha le sue prerogative di carattere ambientale. E allora passiamo al resto del Carlino. L'apertura è dedicata alla cronaca e vediamo qui un nuovo successo ottenuto dalle forze dell'ordine nella lotta contro lo spaccio della droga. Un chilo di marijuana nell'auto è stato rinvenuto nell'auto di un ragazzo, di un ragazzo fanese di 20 anni che è stato intercettato da una pattuglia della polizia. La polizia gli ha trovato anche i duetti di Ascis durante un controllo nei pressi dell'autostrada. Oltre a un chilo di marijuana e quasi duetti di Ascis è il bottino che è stato trovato in auto nell'auto di un ventenne fanese incensurato. Gli agenti del commissariato lo hanno bloccato nei pressi dell'autostrada. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri e quindi è finito in carcere. Per il giovane sono scattate le manette perché il quantitativo insomma un chilo di marijuana è superiore a quello tollerato per uso personale. E poi vediamo qua l'appello di una signora che si trova in una situazione drammatica. Ha sempre regolarmente pagato all'affitto e abita con il figlio in un appartamento della città. Però il proprietario ne ha bisogno perché si trova in ristettrezze economiche e deve vendere l'appartamento. E quindi la signora ha pochi giorni ancora per restare in questi locali. Che cosa accade? Accade che nonostante tutti gli sforzi fatti non ha trovato un appartamento. L'è in grado di pagare 5 al massimo 600 euro al mese. Gli ha sempre pagati. Lavora regolarmente e cerca un appartamento che non trova. E pensare che a Fano si dice, si dice, ci siano 5.000 appartamenti sfitti. L'OSS di Sara si tratta di una signora, si chiama Slodana Lekic. Ha 47 anni, nata e cresciuta a Belgrado in Serbia, arrivata in Italia 25 anni fa. Era fuggita dai bombardamenti. Allora c'era la guerra in Serbia ed è disperata, si sente addirittura soffocare perché il 20 giugno deve abbandonare la propria abitazione e veramente non sa dove andare. Se qualcuno ha un appartamento che può mettere a disposizione a questi prezzi è bene che si faccia vivo perché la signora si trova veramente in stato di necessità. Vediamo anche un incontro che ieri ha fatto Fratelli d'Italia. Un incontro di carattere elettorale a sostegno del candidato sindaco Luca Serfilippi che però non era presente. Non era presente perché è stato colto da febbre alta. Ci mancherebbe che proprio nelle ultime fasi della campagna elettorale Luca Serfilippi non potesse partecipare agli ultimi incontri. Bene, facciamo gli auguri a lui perché si rimetta al più presto. Comunque ieri era presente anche il governatore Francesco Acquaroli che ha fatto un resoconto puntuale dell'impegno del centrodestra al governo della regione a iniziare dalla sanità. Acquaroli ha rimandato al centrosinistra regionale ai governi tecnici nazionali la responsabilità sulle mancanze dei medici e sulle liste di attesa. C'è insomma uno scarico di responsabilità. Il centrosinistra imputa al centrodestra le mancanze della sanità. Il centrodestra le rivolge ancora al centrosinistra precedente quello che ha ereditato. Insomma la situazione comunque la conosciamo tutti e al momento ancora ci sono dei grossi problemi. E siamo in conclusione. Concludiamo con questo articolo di Mondolfo. Erbacce pure nella scalinata del comune a Mondolfo. Il capogruppo di minoranza Anteo Bonaccorsi si esprime contro il degrado. Serve un progetto di riqualificazione per il centro storico. E anche la scalinata che conduce al comune di Mondolfo è piena di erbacce. E con qui e con questo chiudiamo i nostri giornali. E vi diamo appuntamento come sempre a domani alle 7. Grazie per l'ascolto e a risentirci.